Sono le 5 e mezza del mattino, adesso mi preparo per sistemare la pressione gomme della Canyon Dopodiché vado a farmi un'oretta di corsa e per le 7 devo essere sotto la dozza per poi portare le bambine a scuola e andare al lavoro Quindi via alla misurazione della pressione Allora, posteriore un 3 E anteriore vado a mettere un 2 scarso, un 2,8 Ok, un 2 può bastare Il treno sarà abbastanza insidioso, quindi molto fangoso Ora mi vedi pulito, ma dopo ti farò vedere un video di come tornerò indietro Sia a livello di pulizia fisica che anche della Canyon Corsetta ma tutta in affinita Come vedi sono abbastanza lurch La Canyon è giustamente lurida Che altro dirti? Temperatura di 10 gradi Adesso saremo intorno ai 13 Il trailer era perfetto, fangoso al punto giusto Seguimi nei prossimi video perché vorrei postare esattamente il percorso fangoso Che c'è qui fra Noventi di Piave, Fossa Alta e San Donato